Oggi passeggiamo dentro una pista di ciclocross qui a Marileva 900, ve la faccio vedere. Come vedete c'è un bellissimo ruscello con delle belle cascate, qua con la bici devi guadare perché il ponte di legno batte la strada. Come vedete il sentiero è un sentiero un po' particolare, io lo sto facendo in contromano praticamente, ma è di terra battuta, terra battuta proprio perché passano le biciclette da cross. Adesso vi faccio fare un pezzo per farvi vedere, vedete, guardate, guardate qua, proprio qua, è evidente, questa è proprio una pista da ciclocross. Insomma, deve essere divertente perché sei in mezzo al bosco e insomma hai molto da divertirti qua, scendere e salire. Qua ci sono i classici ponti di legno fatti apposta per gli amanti della specialità, in modo da poter andare ovunque. Un bel massone e poi si scende, vedete qua, dietro c'è la corda che ne delimita il percorso anche se è venuta giù. E niente, vedete qua, va avanti, vi porto fino là, altro ponticello, molto molto bello, un po' più micciattolino piccolino. Adesso si va su, andiamo su, andiamo su, andiamo su, andiamo su, andiamo su. Bella ripida, bella ripida, arriviamo qua che non so cosa sia, sono sincero, pensavo fosse un piccolo santuario, non è un santuario. E di lì, vedete qua, credo che sia qualcosa per tenere l'acqua. E di qua, poi, c'è la pista che va avanti, va su, vedete c'è lo stop anche, vi porto a vedere lo stop e poi vi saluto perché sto leggermente morendo a farla ripida così. Vedete, cartello piano di là, cartello stop. E che questa pista vi sia piaciuta, a me tanto, anche perché non la conoscevo, come vedete c'è tutto il percorso. A me non resta che salutarvi dall'appuntamento qui prossimo del canale. Ciao a tutti.